Notte senza sbarchi a Lampedusa, oggi nuovi trasferimenti per alleggerire il centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa. Domani, trentesimo anniversario dell'omicidio del Beato Pino Puglisi, le iniziative del Centro Padre Nostro in favore dei giovani. A Salemi in centinaia hanno dato l'ultimo saluto a Marisa Leo nella Chiesa Madre, i funerali della donna uccisa dall'ex compagno. A Palermo ha approvato il piano triennale per le opere pubbliche, pioggia di interventi, gare d'appalto entro l'anno. Apre la nuova stagione televisiva, Tele One riparte con le dirette, questa sera il format sportivo 16 gol. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi giovedì 14 settembre, notte senza sbarchi a Lampedusa dopo l'ondata di arrivi registrata ieri quando sull'isola sono giunte oltre 5.000 persone. Oggi così come disposto dalla prefettura di Agrigento sono stati previsti nuovi trasferimenti per alleggerire il centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa. I primi a partire saranno 453 migranti sulla nave Lampedusa diretta a Trapani, altri 480 saranno trasferiti con la nave Veronesi diretta ad Augusta, circa 700 sulla nave di linea Galaxy E300 sulla nave militare Orione diretta a Catania. Dopo una giornata particolarmente impegnativa, oggi continuano i trasferimenti per alleggerire l'hotspot dove si registrano circa 4.200 presenze. Ieri momenti di tensione al porto dove centinaia di migranti hanno protestato per lasciare il molo. Gli agenti presenti sul posto hanno effettuato una carica di alleggerimento perché alcuni migranti avrebbero tentato di sfondare il cordone di polizia. Riportata la calma, i migranti si sono seduti a terra. Oggi, nonostante la situazione sia sicuramente complessa, gradualmente si sta cercando di tornare alla normalità. Malgrado le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle dormire all'addiaccio. Abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno. Lo dichiara Francesca Basile, responsabile migrazioni della Croce Rossa italiana questa mattina dall'hotspot di Contra d'Embriaco, la Lampedusa. Durante la notte non ci sono stati approdi dopo due giorni di caos. Ieri sono stati 2.154 i migranti approdati con 51 barchini. Il commissario per l'emergenza e immigrazione Valerio Valenti e il prefetto di Agrigento Filippo Romano hanno disposto un massiccio pieno di trasferimenti. Ieri sono andati via in 1.650 quasi 2.000. Le persone interessate oggi. Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Pino Puglisi, anticipa le iniziative del Centro in favore dei giovani. In un momento tanto difficile per i giovani torna attualissimo l'impegno del Beato Puglisi, ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre del 1993 a Palermo perché è capace di indicare nella quotidianità un cammino diverso alle nuove generazioni di allora. Giuseppe Puglisi diventò scomodo per la sua forza di aggregazione, fondata sui valori in un territorio dove era la mafia a dettare i principi di illegalità. Oggi è Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato a Don Pino Puglisi a rilanciare su giovani accoglienza da Brancaccio, il quartiere al quale Don Pino donò la vita. Il giorno 22 inaugureremo un centro aggregativo per giovani. Abbiamo ristrutturato un'antica torre del 1600 che era persa dentro gli sfabbriciti di Brancaccio e quello sarà un luogo dove i ragazzi finalmente potranno ritornare a riunirsi, a incontrarsi, a confrontarsi, ma non soltanto con quelli di Palermo, quelli di Brancaccio e con quelli di tutte le circoscrizioni di Palermo, ma anche con i ragazzi che vivono un dramma ancora peggiore, che sono quei paesi che purtroppo oggi vivono la guerra. E quindi i paesi, per esempio la Libia, la Siria, la Panestina, tutti questi paesi che in qualche modo hanno dei problemi diversi dai nostri, ma che i nostri ragazzi non percepiscono. Ecco, secondo lei cosa manca ai giovani in questa città ultimamente? Mancano i valori di riferimento, nonostante figure come Padre Puglisi li abbiano fortemente sottolineati con la loro testimonianza e con il loro sacrificio, però non ci sono più luoghi dove loro si possono confrontare su quei valori e anche metterli in discussione, perché io penso sempre che i valori non sono tali perché ce li ha dati qualcuno, punte basse sono quelli. Io penso che anche i valori possono essere messi in discussione, però li dobbiamo sostituire con altri valori. Allora questo purtroppo con i giovani non si fa più. Allora vogliamo creare questo luogo dove si chiama appunto Young Lab per dare un senso più innovativo, più giovanile, ma sarebbe un laboratorio di giovani, dove i giovani si devono di nuovo sperimentare all'esercizio del pensiero, all'esercizio del confronto e soprattutto dell'accoglienza. Puglisi, ricordiamo, ce lo vuole aggiungere quella parola al nome. Centro Padre Nostro lo volevano intitolare grazie all'indicazione di Ilia Cerrito, ma lui dice che dobbiamo mettere centro di accoglienza a Parre Nostro. Ecco la differenza. L'accoglienza è quello che ci contraddistingue rispetto a tutti quelli che invece respingono le persone. E a poche ore dalla ricorrenza del giorno in cui il Beato Puglisi fu ucciso da Cosa Nostra, riunione straordinaria della segreteria della CISL nel palazzo nel quale alloggiava il martire della chiesa. Noi siamo stati altre volte in questo centro, da altre parti oggi lo facciamo direttamente proprio nel centro Padre Nostro dove c'è la casa del Beato Don Puglisi. Riteniamo che sia importantissimo per alcune motivazioni. La prima vogliamo omaggiare anche noi con il lavoro che stiamo facendo in questo senso il trentennale della scomparsa, ahimè, per mano della malavita organizzata di Don Puglisi. Ma accanto a questo vogliamo affermare con il lavoro che stiamo facendo e sostenere con l'impegno che un'organizzazione sindacale con una presenza sociale forte come la nostra ha, sostenere il messaggio di Don Puglisi. Non solo dal punto di vista della lotta forte e senza quartiere alla illegalità e quindi la legalità al centro dell'azione di chiunque, ma anche al centro ciò che Don Puglisi predicava e che fa parte della nostra azione sindacale. La persona, il lavoro, la famiglia, il disagio sociale per accompagnarlo a un modello di sviluppo. Don Puglisi diceva una cosa importantissima e cioè proponeva un messaggio di vita antitetico alla cultura malavitosa. Il messaggio di vita antitetico alla cultura malavitosa, oltre a farlo ed esercitarlo profondamente con la propria azione, consiste proprio in questo, rendere centrale la dignità della persona, la legalità, il lavoro, lo sviluppo, l'accompagnare le difficoltà dove ci sono le povertà e il disagio sociale e rendere tutto questo motivo culturale di prospettiva e di vita. E ora a Salemi dove in centinaia hanno dato l'ultimo saluto a Marisa Leo nella chiesa madre i funerali della 39enne uccisa dall'ex compagno la settimana scorsa. La città di Salemi ha dato l'ultimo saluto a Marisa Leo, ennesima vittima di femminicidio in provincia di Trapani. La donna che lascia una bimba di 4 anni è stata uccisa dal suo ex compagno che poi si è suicidato. I cittadini hanno partecipato in massa, consentita commozione, riempendo la chiesa madre di Salemi dove sono stati celebrati i funerali. Per l'occasione è stato allestito anche un maxischermo nel piazzale antistante la chiesa, consentendo così ai cittadini rimasti fuori di poter assistere alla funzione religiosa. Ci ritroviamo qui oggi smarriti e sgomenti, tutti assetati di una parola che spenga la sete del nostro spirito affranto e faccia ardere il nostro cuore rimasto congelato dalla drammatica vicenda accaduta alla nostra Marisa, la cui morte ci ha fortemente scosso, ha affermato durante la funzione Monsignor Angelo Giordanella, vescovo della diocesi di Mazzara del Vallo, a ricordare la figura di Marisa, il fratello Mauro e Roberta Urso, presidente Donne del Vino, che ha annunciato a ottobre realizzeremo a Mazzara del Vallo il progetto sul vino al quale stava lavorando Marisa, lo faremo per lei. Un lungo applauso ha poi accolto il feretro all'uscita della chiesa, poi il corteo verso il cimitero. Il sindaco di Salemi, domenico Venuti, ha espresso vicinanza alla famiglia proclamando il lutto cittadino. A Palermo ha approvato il piano triennale per le opere pubbliche, pioggia di interventi, gara d'appalto entro l'anno e oltre 50 i progetti decisi dal Consiglio Comunale con investimenti che per un ammontare di oltre 5 miliardi. Assessore, il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche con investimenti annuali di 450 milioni circa. Cosa significa per Palermo? Significa creare opportunità di lavoro e infrastrutturare la città. Sono opere che riguardano una serie di settori, dall'illuminazione pubblica al basolato del centro storico, alla manutenzione di strade e marciapiedi, a un impianto al recupero del baglio mercadante, agli investimenti sull'edilizia residenziale pubblica per quasi 5 milioni. Diciamo, sono una serie di settori dell'amministrazione che avranno attenzione dopo tanti anni di abbandono. Gli interventi abbracceranno appunto anche gli impianti di illuminazione, le scuole, le mense, la piscina. Cambierà anche Mondello e Brancaccio? Ci dica. C'è inserito anche, diciamo, finalmente il rifacimento della piazza di Mondello, interventi sulla costa sud, interventi su Brancaccio, interventi sulla pubblica illuminazione. Parliamo di una sessantina di interventi che abbracciano tutta la città e ci sono interventi importanti anche sul cimitero. Il nuovo tempio crematorio, l'ampliamento di Santa Maria di Gesù e interventi di manutenzione sul cimitero di Santa Maria dei Rotoli. Quando sarà il via? Ma alcune opere già sono in itinere, che fanno parte di accordi quadro. Molte vedranno l'inizio entro dicembre, altre entro i primi sei mesi dell'anno prossimo perché concluderemo le gare entro il 31 dicembre. Ma c'è chi dice anche no a questa approvazione? Ma molti hanno detto sì. La maggioranza del Consiglio Comunale, quando dico la maggioranza non dico la maggioranza uscita dalle urne, ma abbiamo registrato ieri in aula un grande senso di responsabilità e di attaccamento alla città da parte di consiglieri di minoranza, parte del PD, parte dei 5 Stelle, parte di eletti in progetto Palermo, che sono rimasti in aula a distinguere le posizioni ma a condividere comunque l'interesse della città. E ora parliamo di vitivinicoltura. È crisi profonda e irreversibile se non si interviene il presidente Schifani, incontri subito gli operatori del comparto. L'ha dichiarato Cristina Ciminisi, deputato del Movimento 5 Stelle all'Ars. Sentiamola in questa intervista. Il settore a vitivinicolo siciliano è in piena crisi. La deputata regionale trapanese Cristina Ciminisi è tra i firmatari della richiesta d'incontro con il presidente della regione, sottoscritto il 12 agosto scorso da deputati, sindaci di ogni orientamento politico dei 25 comuni della provincia di Trapani, cantine sociali, organizzazioni sindacali di categoria, centrali cooperative, ordini professionali e associazioni di viticoltori. Le ragioni dell'urgenza e le preoccupazioni del comparto sono state sintetizzate nel documento che avanza anche proposte su come affrontare la crisi economica che si è abbattuta sul mondo vitivinicolo, in particolare quello legato alle cooperative sociali. Una vendemmia che rischia di essere l'ultima perché c'è grande scoramento e grande preoccupazione tra tutti i viticoltori che in questo momento sono veramente sull'orlo della disperazione. Chiedono da tantissime settimane di incontrare il presidente Schifani ma finora soltanto un muro di gomma. Hanno elaborato un documento, in particolare nella provincia di Trapani, insieme a tutti i 25 sindaci di tutti i colori politici, di tutti i comuni, insieme alla deputazione regionale e a tutte le associazioni di categoria con un insieme di proposte che possono essere utili a sostenere il comparto in questo momento così difficile. In realtà dell'assessore San Martino e dal governo Schifani è arrivata una misura sulla distillazione di crisi, è stata esclusa del tutto la possibilità di accedere alla vendemmia verde ma oggi queste aziende affrontano una grave crisi di liquidità per la quale sarebbero necessarie centinaia di milioni di euro che possono essere e devono essere chiesti al governo nazionale. Potrebbe essere una buona misura quella già intercettata dal governo nazionale che ha stanziato però soltanto un milione di euro sul fondo di solidarietà nazionale per i danni da Peronospora ma è una somma assolutamente insufficiente, un centesimo di quello che sarebbe necessario per dare un reale sostegno al comparto. E ora parliamo di sanità. Il commissario straordinario dell'ASPA di Trapani, Vincenzo Spera, fa il punto sulle liste d'attesa e le cure palliative. Tante le criticità risolte ma servono più risorse per curare i malati in stato di terminalità. Si è parlato tanto di liste d'attesa soprattutto dopo l'intervento del Presidente della Regione Renato Schifani. Qual è la situazione a Trapani? La situazione all'ASPA di Trapani è una situazione molto buona. Devo essere sincero perché avevamo già colto e lavorato già nell'anno precedente l'abbattimento di liste d'attesa. I numeri lo dicono tutto. Quello che stiamo facendo su prestazioni che sono 37.560 fino al 30 agosto del 2023. Ad oggi abbiamo solo ed esclusivamente 1.609 prestazioni di erogare. Tutte le altre sono state o erogate e sono 28.000 e passa oppure sono state disdettate da parte delle persone che avevano prenotato o non si sono presentate direttamente alle visite. Quindi abbiamo un gap di 1.609 su 37.000. Quindi capite che già il lavoro grosso è stato tutto espletato. Abbiamo colto sicuramente l'opportunità che ci ha dato il Presidente Schifani per annullare totalmente quelle zone di stessa attesa soprattutto su determinate specialistiche dove avevamo un po' di arretrato. Abbiamo chiesto e sensibilizzato ai nostri professionisti sia ospedalieri che gli specialisti convenzionati che hanno dato a loro disponibilità quindi al 31 dicembre del 2023 non solo annulleremo tutte le liste di attesa relative al 2022 ma anche quelle relative all'anno in corso. Un'altra criticità sono le cure palliative. In una recente intervista il dirigente generale Salvatore Iacolino è intervenuto su questo tema perché sempre più spesso soprattutto in alcune province ai malati terminali vengono negate le cure palliative e ai pazienti viene assegnato impropriamente l'adi geriatrico. Su questo anche Trapani sembra avere qualche problema. Siete intervenuti o come pensate di intervenire per risolvere questa anomalia? Siamo già intervenuti e stiamo continuando ad intervenire perché stiamo sensibilizzando le nostre unità di valutazione medica a considerare effettivamente quali sono le reali esigenze da parte del paziente relative alle prestazioni. Se sono delle prestazioni legate effettivamente ad una fase geriatrica oppure devono essere più spinte come in questo caso in cui sono cure palliative. Abbiamo a che fare anche ovviamente con un budget che è molto limitato. Abbiamo chiesto alla Regione già in precedenza in sede di contrattazione del precedente budget di aumentarci le disponibilità economiche proprio per dare la possibilità di poter accogliere tutte le istanze che ci arrivano. Ma non sempre siamo nelle condizioni proprio per limiti di budget di poterle fare. Però ci stiamo lavorando molto. Stiamo cercando di trovare anche delle risorse all'interno del bilancio aziendale senza chiedere null'altro alla Regione ma non è una cosa semplicissima. Però vi posso dire che ci stiamo lavorando e che sicuramente a brevissimi risultati si vedranno. Sabato prossimo a Palermo avrà luogo il congresso della DC Totò Cuffaro, segretario politico nazionale della democrazia cristiana, parla delle linee guida. Noi sabato facciamo il congresso regionale e poi nelle settimane successive faremo tutti i congressi provinciali che stanno a significare che è un partito democratico, partito libero, aperto, plurale e democratico dove non c'è una sola persona che sono io, anzi non ci sarò più leader in Sicilia perché andrò a fare il mio lavoro in giro per l'Italia. Ci sarà una classe dirigente che farà le liste per le comunali a Caltanissetta presentando la lista della democrazia cristiana che torna nella scheda elettorale di Caltanissetta dopo tanti anni e ci sarà la lista della democrazia cristiana anche in seno al Consiglio provinciale per la cui rielezione stiamo facendo una grande battaglia perché noi vogliamo rifare le province, vogliamo ridare al territorio una rappresentanza provinciale che manca da troppo tempo, da quando qualcuno pensò di chiudere le province andando in televisione e pensiamo che una classe dirigente deve avere a cuore il proprio territorio, deve conoscere il proprio territorio, le province sono la capacità di dialogare tra le autonomie locali e la regione, è chiaro che la democrazia cristiana avrà le sue liste sia per le comunali che per le provinciali. A quelli che non vanno a votare io voglio ricordare una frase di De Gasperi che diceva la politica la si fa o la si subisce? Chi non va a votare sceglie di non fare politica, di non partecipare al gioco della democrazia elettiva e quindi subisce la politica. Chi sceglie di non partecipare rinuncia a poter essere protagonista nella scelta e fa sì che altri scelgano per lui e quindi non ha motivo di lamentarsi quando le scelte sono sbagliate. Quindi non partecipare al voto, non andare a votare è una scelta perdente perché si delega agli altri quello che ognuno dovrebbe volere per se stesso. Quindi se vogliamo cambiare, se le cose che non vanno bene, non ci convincono. Se le vogliamo modificare partecipiamo alla politica candidandoci e cercando il voto. Manifestazioni di cittadini e associazione nella borgata marinara di Sferra Cavallo contro l'inquinamento da colibatteri fecali. Si svolgerà sabato prossimo nella piazza della borgata marinara. Un mare da salvare con questo slogan nel comitato cittadino permanente Sferra Cavallo e il comitato cittadino e il mare di Sferra Cavallo hanno organizzato in collaborazione con l'associazione Ciavolando il Circolo Legambiente Mesogeo, la Lipule che è italiana protezione uccelli, l'OIPA Italia, Organizzazione Internazionale Protezioni Animali Plastic Free, il WWF Sicilia Nord, una manifestazione per denunciare l'inquinamento da colibatteri fecali nel tratto di mare dell'area naturale marina protetta di Capogallo e isole delle femmine denominato gli scivoli in via Plauto. La manifestazione, affermano gli organizzatori, arriva dopo tre mesi, ovvero dall'inizio della stagione estiva, di lente e insufficienti risposte da parte degli organi competenti. Nonostante i solleciti, oggi a stagione balneare conclusa, ancora il problema inquinamento non si è risolto e il divieto di balneazione persiste. Tutto ciò ha creato un danno enorme all'ambiente e alla salute dei cittadini che abitano e frequentano la borgata di Sferra Cavallo, alle tante attività commerciali e ai turisti. Sferra Cavallo si trova in uno stato di degrado e abbandono, non è tollerabile, bisogna cambiare rotta. Nel corso della mattinata di sabato prossimo interverranno i referenti delle associazioni organizzatrici della manifestazione. Ad Acireale al dia la produzione di marmellata biologica solidale per aiutare i più deboli. Vediamo. Nasce nella diocesi di Acireale la marmellata biologica solidale prodotta da Don Orazio Caputo, presidente dell'associazione Mai Più Soli e vice direttore della Caritas di Acireale. Da un terreno di 4.000 metri quadrati, concesso e incomodato d'uso dalla diocesi, sito all'ermo di Sant'Anna, da Asci Catena e coltivato dalla stessa associazione hanno origine i frutti che servono a realizzare le confetture successivamente concretizzate da un'industria specializzata. A produrre la marmellata, oltre a Don Orazio, sono gli stessi utenti che soffruiscono della preziosa attività di solidarietà. Le confetture prodotte sono di arance amare, limoni, fichi e mandarini. Il ricavato viene reinvestito nell'attività e nella carità per il prossimo, affinché ogni uomo abbia il diritto al lavoro e così acquisire un'esistenza libera e dignitosa. Nasce insieme a delle persone in difficoltà che stavano nella strada e adesso, ringraziato Dio, vivono all'interno di due appartamenti. Abbiamo del terreno all'ermo Sant'Anna, di cui questo terreno ha dei frutti, limoni, aranci e noi raccogliamo questi frutti, li portiamo all'interno di una ditta che ci trasforma in marmellate. Il guadagno, diciamo così, l'incasso di queste situazioni, di questi frutti, di questi vasetti, poi si mettono per lo scopo, per le famiglie in difficoltà che non hanno lavoro. I vasetti non hanno un prezzo, è un'offerta libera. Perché? Perché all'interno di quei vasetti c'è la dignità delle famiglie che vivono in difficoltà. Ecco, questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro scopo. L'amministrazione ha ritenuto opportuno, oltre che valorizzare artigianato e agroalimentare locale, attenzionare anche tutte quelle realtà dell'associazionismo del terzo settore locale al fine di garantire una possibilità di visibilità e di conoscenza che chiaramente consenta di abbracciare un pubblico quanto più vasto possibile e garantire una visibilità maggiore. E ora cambiamo argomento. L'associazione musicale Etnea spegne 50 candelini. Applausi per il quartetto Tumos a Palazzo Viscari, aspettando la 48esima stagione concertistica Bellini di Catania il prossimo 4 ottobre. E' stato il doppio concerto del quartetto Tumos a Palazzo Viscari a Catania ad anticipare la 48esima stagione concertistica dell'associazione musicale Etnea. Il quartetto di giovani musicisti formato da Silvia Borghese al violino, Francesca Boscarato sempre al violino e Sebastiano Favento alla viola, Alessandro Muriello al violoncello, vanta già esibizioni in contesti prestigiosi lungo lo stivale, scambi internazionali come quello con il Royal College of Music di Londra. Siamo quattro ragazzi molto appassionati di musica da camera. Ci siamo incontrati al Conservatorio di Milano e abbiamo proseguito i nostri studi all'Accademia Stauffer di Cremona con il quartetto di Cremona. Abbiamo scelto il nome Tumos perché innanzitutto è una parola greca che significa animo emozionale e secondo noi è la caratteristica che più ci accomuna. L'esibizione, che ha coinvolto una platea eterogenea in una serata ricca di fascino dove si sono celebrati i 50 anni dell'associazione musicale Etnea, si è strutturata in due momenti. Il primo set, organizzato all'interno della rassegna musicale Musica in Vista, si è svolto tra il verde e l'ustureggiante del cortile del palazzo. Il secondo, riservato agli abbonati, si è invece tenuto presso il Salone delle Feste del Palazzo Nobiliare. Un concerto di alto livello che ha fatto aumentare l'attesa per l'apertura della stagione prevista il 4 ottobre che segna il primo ritorno della collaborazione dell'associazione con il Conservatorio di Catania e il Teatro Massimo Bellini. È una stagione, come sempre, all'insegna della qualità, della musica classica e che si aprirà come negli anni precedenti con un grande concerto al Teatro Massimo Bellini con l'orchestra sinfonica del Conservatorio di Catania. Questa volta ci saranno ben due ospiti internazionali. Il grande direttore svizzero Charles Dutois, una vera star della musica classica internazionale che ritorna in Sicilia dopo tanti anni, è il pianista Barry Douglas, irlandese, fra i più grandi solisti del suo strumento, con un programma ricchissimo. Tra l'altro c'è il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff in occasione del centenario, appunto, dalla nascita del grande compositore russo. Le vie dei tesori tornano a Bagheria dal 16 settembre al 1 ottobre. Dieci luoghi e dieci esperienze per la quarta edizione del festival. Le vie dei tesori ritornano a Bagheria per il loro quarto anno consecutivo, un festival importante che nella città delle ville ha sempre avuto un ottimo riscontro sin dal primo anno, quando si era reinventato nel post-covid. Ora è una realtà rodata e quest'anno è stato messo a punto un programma che avrà come cuore Villa Palagonia, la Villa dei Mostri. L'intero programma del festival, costruito in stretta collaborazione con il comune di Bagheria e curato sul territorio di Agostino e D'Amato, è molto articolato e racchiude castelletti fortificati, ville storiche, case d'artista, piccoli museo gioiello, esperienze della natura e sortite fuori porta nel mare di Santa Flavia e Porticello. Dieci luoghi e altre tante esperienze da non perdere, non solo a Bagheria ma anche nei dentorni, visto che si parte da quel luogo incantato che è l'Arco Azzurro, recuperato e restituito alla comunità dopo la confisca alla mafia. Ritorna Castello San Marco, eccentrica dimora estiva dei Principi di Mirto e dei Conti di San Marco, poi Palazzo Butera, gestito dal comune, la dimora storica settecentesca a Cirincione Mineo, dove tre stanze sono ancora con gli arredi originali. Ritornano il giardino settecentesco di Villa San Cataldo, il piccolo e delizioso museo del giocattolo e il museo dell'acciuga ad Aspra ideato dai fratelli Balistreri per raccontare il mondo della pesca e della salagione. Fra le esperienze, oltre alla putia dove Ignazio Buttita iniziò a lavorare a dieci anni, la visita alla bottega dell'ultimo pittore di Masci Dara, Michele Ducato. Apre la nuova stagione televisiva. Tele One riparte con le dirette questa sera, il format sportivo 16 gol. Il nastro per diverse trasmissioni. Primo a partire in ordine di tempo è il nuovo format sportivo 16 gol, tutto il calcio in Sicilia, che andrà in onda tutti i giovedì dalle ore 21 a partire da questa sera in prima serata. Una produzione che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire un quadro completo su tutto il calcio della nostra isola, con commenti ed approfondimenti, in particolare sulle categorie dilettantistiche. Oltre alla Serie B con il Palermo e Serie C con Catania e Messina, grande spazio sarà infatti riservato al raggruppamento meridionale della Serie D, per parlare di Trapani e Licata e ai due gironi siciliani del campionato di eccellenza. La trasmissione ha ottenuto il patrocinio del comitato regionale della LND, Lega Nazionale Dilettanti. A dare sul 16 il fischio d'inizio saranno due conduttori, Filippo Di Lorenzo e Marzia Cannata. Tra i primi ospiti oggi in diretta, per rispondere alle domande dei tifosi, anche il noto giornalista sportivo Amedeo Goria e l'ex allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi. Da lunedì 18 settembre, Tele One torna in diretta ogni giorno con Mattina Live, come di consueto primo appuntamento della giornata ideato e condotto da Roberto Marco Oddo. Alle ore 15 ritorna a 16 live per la quarta stagione, con i consueti approfondimenti su questioni legali, mediche, condominali, di caffè e patronato. Per i telespettatori sarà possibile porgere domande agli esperti inviando un messaggio whatsapp al numero 391-117-6872 o chiamando in diretta allo 091-854-9171. E ora passiamo alle notizie sul calcio. Dopo la pausa riprende il campionato di Serie B. Il Palermo affronterà in trasferta l'Ascoli. Vediamo quali sono i precedenti fra le due squadre. Quella di sabato prossimo tra Palermo e Ascoli sarà la diciottesima sfida della storia interna marchigiana. Le due squadre infatti si sono affrontate allo Stadio del Duca in 17 occasioni, con un bilancio di 7 successi per i bianconeri, 5 vittorie per i rosa nero e 5 pareggi. L'ultimo successo a Scolano è quello del campionato di Serie A 2006-2007. 3-2 il risultato, rosa avanti con Simplice o pari di Budiansky, poi Matusiak per i siciliani, ma nella ripresa i bianconeri si imposano con le reti di Paolucci e ancora Budiansky. L'ultima sfida risale al campionato di Serie B della scorsa stagione. Il Palermo si impose per 2-1 grazie alla doppietta di Brunori con in mezzo il momentaneo pareggio a Scolano ad opera di Forte. Le immagini di archivio si riferiscono alla vittoria ad Ascoli della stagione 2003-2004, l'anno del sospirato ritorno in Serie A dopo 30 anni di attesa. E con il calcio si chiude questa edizione del nostro TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto. Grazie. 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 Grazie.